Secondo giorno senza vittime nell'est dell'Ucraina. La tregua sembra ingranare con un po' di ritardo rispetto alla sua entrata in vigore. L'esercito ucraino ha dunque cominciato il ritiro della propria artiglieria pesante dalla linea del fronte. Operazione finora non effettuata a causa, affermavano i vertici di Kiev, degli attacchi dei filorussi. L'OSCE conferma che la situazione va migliorando. Vediamo che c'è maggiore calma, ne siamo lieti, ma ancora vediamo una serie di violazioni del cessate il fuoco che vanno dal lancio di razzi al fuoco di artiglieria all'utilizzo di armi leggere. I filorussi a loro volta proseguono la ritirata. Questa è la situazione la mattina di giovedì a circa 20 chilometri da Donetsk. C'è il timore però che possa essere solo uno spostamento strategico verso Mariupol. Tutte le richieste di giudicare i ribelli, la Russia o chiunque altro colpevole di violazioni del cessate il fuoco hanno un unico scopo, non consentire che si proceda verso una soluzione politica. Se mai ci si dovesse arrivare si dovranno fare i conti con tutti i danni lasciati da questa guerra. De Balseve è ormai conquistata dai filorussi ma della città restano per lo più soltanto macerie.